Primo incontro con la stampa del nuovo questore di Pescara per presentarsi innanzitutto alla città e alla sua provincia, Carlo Solimene, nato a Napoli 60 anni fa. Il suo nome è collegato soprattutto all'operazione di polizia postale Sleeping Dogs del 2014, condotta dagli uomini della polizia postale con il supporto dell'FBI, quando vennero accertate violenze su tre vittime di 5, 8 e 10 anni. Io provengo dalla squadra mobile della città partenopea, dove quando ero ragazzo o quando ero molto più giovane ho operato in quella città, per cui sono convinto di poter mettere a disposizione di questa città così importante, di questa comunità così importante, la mia esperienza lavorativa, sia quella digitale e sia quella reale. Promette un impegno su tutti i fronti, anche se ritiene che tre fenomeni meritino anche a Pescara una particolare attenzione. Su quelli che sono i reati di genere, le violenze nei confronti delle persone più deboli, ma anche le baby gang, una particolare attenzione a questi fenomeni secondo me va data perché questo rende più sicura tutta la comunità. Non tralascerei neanche la parte dei reati digitali perché sono quei reati che sebbene possono sembrare minori, possono mettere in grandi difficoltà e creare insicurezza all'interno di un nucleo così importante come quello della provincia di Pescara, ma anche nelle singole famiglie. Ho già fatto diversi incontri e conosciuto la criticità di Pescara dallo spaccio di droga ad infiltrazioni criminali sempre più pericolose. Io credo che il prefetto, il comandante provinciale dell'arma dei Carabinieri, la val di finanza, ma anche la polizia locale, quindi tutti insieme dobbiamo essere pronti a collaborare, fare rete, perché questo può significare un innalzamento dei livelli di sicurezza. Ha studiato la realtà pescarese e provinciale nelle settimane che hanno preceduto il suo arrivo. Ha una squadra sulla quale conta molto ed è pronto ad essere operativo a pieno regime. Perché? Diciamo che le idee le cominciamo a avere chiare e sono sicuro che grazie al contributo di una squadra importante come quella della questura di Pescara riusciremo a soddisfare le esigenze di sicurezza di questa comunità.